Siamo allo sport per questo 30 luglio, vediamo subito il nostro sito, lo abbiamo lasciato per questa parte proprio perché l'apertura è sportiva, finisce a reti bianche, la prima uscita stagionale del Gubbio 0-0 con i pari categoria del Catanzaro, comunque una partita positiva di cui vi daremo conto ampiamente stasera nel Tg Sport alle 20.45, non c'è solo questo però sul nostro sito, come vediamo anche il Perugia Perugia ha tre gol e tutti dagli attaccanti nel test contro il Bastia di Marco Bonuro un 3-0 positivo per la squadra di Nesta, così siamo al volo sul sito, vediamo gli altri titoli con la settimana da Caldo Record che ci aspetta, a sospensione della preapertura della caccia l'assessore Cecchini annuncia il ricorso contro la disposizione del Tar e poi Walter Verini nuovo responsabile giustizia del PD nazionale e poi una settimana che porterà a una celebrazione particolare lo scorso anno lo ricorderete, i ceri sul col di lana per il centenario della famosa festa al fronte ebbene torna domenica prossima la celebrazione in cima al col di lana, tempo permettendo ma quest'anno non dovrebbe fare scherzi e sono attesi anche tanti agubini proprio nella vallata bellunese, tristemente celebre per i fatti della prima guerra mondiale poi tanti video legati ai nostri servizi, allo sport, agli speciali, i plus, come vedete altre notizie di cronaca tra cui il recupero su Montecucco dei tre ciclisti stremati che sono stati ricondotti in sede dall'elicottero dei Vigili del Fuoco e poi il successo per l'invito a Palazzo di Costacciaro una delle tante rassegne di scena in questo periodo, tra l'altro nella fascia appenninica dove è andato in scena anche suoni controvento di cui parleremo nel Tg di stasera ma torniamo allo sport con il Corriere dell'Umbria, con il Perugia che detta i tempi a Petkovic, ovvero l'attaccante del Bologna che è ormai da tempo nel mirino dei Grifoni ma non sembra decidersi altrimenti si virerà con decisione a altre soluzioni tra cui Mari Lungo intanto oggi l'ufficialità del difensore Felicioli entro metà settimana la società vuole una risposta dal Croato e mezzà la idea di Nesta, quella di Terrani, Bianchimano dice sto dando l'anima, lo sentiremo nel nostro Tg Sport ai microfoni per il dopo partita col Bastia le ferie aspettano il ritorno di Furlan, ne puntano Sanzone l'alternativa per la prima linea resta sempre piccolo Ternana che ieri ha battuto al calci di rigore il Ponte d'Era ricorsi e graduatorie, settimana calda, mercoledì il giudizio della CAF poi il collegio di garanzia del Cogno entro il 15 agosto insomma si saprà pochi giorni prima del campionato quale campionato sarà, anche se la risposta che attende la Ternana è quella del CAF per sapere se sarà bocciata la sentenza che ha favorito il Novara facendo scendere in graduatoria di pescaggi la società Rosso Verde il Gubbio si fa apprezzare, c'è subito la ricerca della manovra 0-0 col Catanzaro però esordi al Barbetti davanti a Papaluca per Gabriele Marchegiani buona la prima uscita stagionale del Rosso Blu contro il Catanzaro finisce 0-0, Piccini out, c'è Schiaroli, Benedetti, Mezzala a sinistra Sandriani è soddisfatto, dice l'impatto è giusto Pedrelli, il gruppo è compatto e unito e poi Foligno comincia l'assalto c'è euforia dopo i ritorni in eccellenza dei Falchetti oggi prima campanella agli ordini di Armillè il capitano Petterini è già carico la società ha allestito un'ottima squadra non ci resta che dimostrare il nostro valore a Spoleto c'è anche Luparini l'attaccante Metolli alla Pievese e poi Sanzisto, sempre per l'eccellenza Sanzisto fatto in casa per stupire ancora parla il presidente Fringuelli grazie a chi ha lavorato finora per l'ottima eredità intanto la Nestor ci prova in promozione ma con giudizio non siamo noi i favoriti e poi il Polismo, Mezzetti e Lagarinei sono arrivati da sole in cima alla salita quella di Spoleto, si è chiusa la Spoleto-Monteluco 7 km di grande fatica sotto il sole coccente, mentre per il tennis trionfa Passaro, profeta in patria il titolo Open dell'Umbria Tennis è suo lui che fa parte dello Junior Perugia motori, BMW 318, parla Umbro il Magionese Parretta è primo e secondo nelle due gare, ora guida la graduatoria Federico Lilli domina la divisione B mentre l'UBS Basket chiude il roster con Sakhinis, Perugia c'è Frolov e resta Gomez tutto questo per il basket mentre dalle pagine nazionali del Corriere peschiamo il tiro a volo ancora Italia nella Green Cup che si è disputata a Massa Martana in Umbria vince la coppia Cristiani-Sollami gran successo per la settima edizione movimentato oltre 600 persone nel centro federale Umbro siamo alla Nazione Grifo ultimatum a Petkovic l'attaccante sfoglia la Margherita il club li concede altri due giorni Ascol e Dinamo Zagabria sono le rivali intanto Federico Cherubini che è alla Juventus finisce nel mirino del Milan per il ruolo di direttore sportivo ancora tutto da decidere di certo c'è che il club rossonero avrebbe chiesto alla Juventus il dirigente Folignate Fere la prima è di rigore schiantato il Ponte d'Era il rossoverdi passa nel turno dopo i penalti mentre Petterini è sicuro Foligno sarà la grande sorpresa ma non sarà una sorpresa è atteso protagonista in eccellenza Bastia in debutto incoraggiante quello della squadra che invece prepara la Serie D abbiamo tenuto testa dice Bonura mentre la Nestor non nasconde le ambizioni in casa Montecastello in vista della promozione c'è entusiasmo e poi Gubbio Gubbio imballato ma un debutto con pareggio la prima amichevole col Catanzaro la difesa tiene bene il centrocampo mostra tutte le sue potenzialità 0-0 condizionato dalle fatiche della preparazione Mario Soblu sono sulla buona strada e devono anche completare la rosa tra l'altro in odore di arrivo rosso-blu c'è Alessio Campagnacci giocatore Umbro ex di tante squadre professionistiche anche di grande livello era Siena lo scorso anno soprattutto un ex castigatore del Gubbio contro il quale ha segnato almeno con tre maglie che noi ricordiamo Giulia Nova e Regina quelle più importanti e poi diritti sportivi non c'è pace acquisti e cessioni a gogone il volley Umbro come cambia la geografia regionale sempre per il volley San Giustino che fermento i colpi delle sue due squadre nel basket maschile Serie C Gold ci sono tre Umbre Val di Ceppo Foligno e Perugia mentre per il femminile conferma per De Frai e Gaglio a Orvieto trionfano gli Umbri nel podismo con Mezzetti e Garinei successo di Fiorelli nel ciclismo a Santa Maria Monte Santa Maria Tiberina Graziani e Olivieri conquistano il giacchio di Magione sempre per il podismo e nel tennis Ruelo e Natazzi favoriti al Grand Prix circolo lavoratori tennis chiudiamo il grifo sprint per Kingsley giocatore sempre del Bologna che ha dato la mediana del Perugia anche se Inzaghi vorrebbe tenerselo Felicioli a Sarnano obbligo di riscatto in caso di promozione più lontano Petkovic la vera carta da scoprire però sarà nesta scrive Claudio Cagnazzo e poi c'era una volta il Tigre Antonio Ceccarini il ricordo di uno dei grandi protagonisti del Perugia dei Miracoli di Castagnier Terzino Goliador e perfino finì in porta il ricordo di Corrado Losito Le Fere Fere vittoria dopo i rigori 5-3 prima partita della stagione in Coppa Italia a Liberati la Ternana passa contro il Portedera segna vantaggiato una partita che è stata equilibrata con poche occasioni De Canio porta in panchina solo 5 giocatori e il sindaco Latini ha debuttato da sindaco dalla nord alla tribuna Gubbio la prima è senza reti squadra di Sandriani si presenta con uno 0-0 al Barbetti contro il Catanzaro ma in scena un 4-3-3 con tanti volti nuovi c'è Marchegiani tra i pali poi Tofanari e Specie Benedetti il tecnico dice abbiamo faticato positiva sorride Bonura Bastia bene contro il Perugia Spoleto al Via del Fratelli affari spenti con tanti giovani Foligno scatta la seconda scalata dopo quella dalla promozione obiettivo è primato anche in eccellenza infine il basket in treno l'Olimpo della Gold sono Val di Ceppo Perugia UBS e Foligno si parte il 29 settembre mentre la scommessa Perugia è il Pulgrifone basket il tennis con la vittoria di Passaro che vince in casa il circuito Umbria Tennis e il giudo con la stella al merito per Gian Paolo Magri infine Spoleto Monteluco Mezzetti show nel podismo nel ciclismo al trofeotto scombro Fiorelli stacca tutti a Città di Castello Veronica la vediamo nella foto Veronica Fiori vince la sua sfida e riesce a saltare più in alto di tutti complimenti di mamma e papà per il grande obiettivo ore Argento nel campionato di ginnastica artistica diversamente abili Fisdir complimenti a Valentina scusate a Veronica e chiudiamo col Foligno pedalano forte le ragazze dell'U-Ciclone di Foligno la società ciclistica nel Memorial Tarquini è davvero tutto anche per lo sport ci fermiamo ancora un break ma si tratta solo della sigla per parlare di meteo Finalmente SEP c'è il nuovo distributore di carburanti a mercato libero a Gubbio in via dell'Arboreto si apre la settimana del caldo record come preannunciato anche sui quotidiani allora vediamo il primo giorno di questa settimana che non smentisce quello che abbiamo letto sui quotidiani lo vediamo anche dalla grafica con le previsioni di Riccardo Rossi giornata pienamente estiva con cieli poco parzialmente nuvolosi per tutto l'arco della stessa nelle ore centrali caldo affoso in tutte le principali località Umbre con particolare attenzione su Perugia che è uno dei capoluoghi a Bollino Rosso dell'intero paese caldo intenso nel Folignate nell'area Ternana in generale su tutte le pianure Umbre dove potremmo raggiungere temperature percepite tra i 33 e i 37 gradi le minime sono comunque alte tra i 19 e i 23 massimo e leggero aumento come vediamo rispetto a un fine settimana che è già stato molto caldo ma è solo l'inizio questa settimana dobbiamo tenere duro per chi non ama troppo il caldo perché invece lo aspettava da tempo possiamo dire che è l'apoteosi ci fermiamo con il nostro primo appuntamento informativo che è in replica anche nel corso della settimana della mattinata scusate potrete trovare più tardi anche sul nostro sito l'informazione torna stasera dalle 19.30 con il Meteo e il TG in replica alle 20.20 e a seguire TRG Plus e TRG Sport e TRG Plus è davvero tutto restate con noi anche attraverso il sito trgmedia.it vi auguro una buona giornata grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti